Uscendo da Bevagna si segue la strada per Cannara e Bettona e dopo un tratto in salita si giunge su un poggio da cui si apre un magnifico panorama su Foligno, Spello, Assisi e Santa Maria degli Angeli. Qui è situato il convento dell'Annunziata di cui sono visitabili la chiesa e la sacristia. La chiesa risale al 1495 e presenta all'altar maggiore una bella terracotta smaltata cinquecentesca di stile robbiano raffigurante l'Annunciazione. Dietro l'altare si nota il coro Ligno intagliato opera del Cinquecento. Allo stesso periodo risale il crocifisso Ligno del primo altare a sinistra. Nella sacristia da non perdere una Madonna col bambino ed angeli di scuola Umbra dell'inizio del 1500. Il visitatore di questo luogo solitario potrà trovare il tempo, ci vogliono soltanto 15 minuti, per trasferirsi al cosiddetto abisso, a nord-est del convento. Si tratta di un laghetto dalle rive fitte di canne e pioppi il cui livello non scende mai, nemmeno nei casi di grande siccità.